Ha superato quota 5.100 presenze scuole sicure. Lo screening organizzato dal Comune di Pesaro è destinato a studenti, professori e personale scolastico degli istituti superiori del territorio, che ha rilevato la positività al Covid-19 di 16 persone. 5.219 il numero complessivo di soggetti che si sono sottoposti al tampone rapido, considerando anche i 115 partecipanti provenienti dai nidi e dalle scuole di infanzia comunali. L'adesione è molto alta dei ragazzi, oltre il 65%, se pensiamo a quelli che si sono già tamponati nelle società sportive e nelle aziende dove fanno l'alternanza scuola-lavoro, l'80% dei ragazzi, forse più, è stato sottoposto a screening. Più tutto al personale docenti ed è davvero una grande operazione, grazie all'Aile, alla Croce Rossa, alla Protezione Civile, alle scuole e ovviamente al Comune che ci ha creduto tanto. Sono dati importanti anche perché dimostrano che ad oggi la scuola è abbastanza sicura, sono 16 positivi, però questi 16 positivi se non fossero stati scovati attraverso lo screening ne avrebbero infettati probabilmente qualche centinaio e quindi è la dimostrazione che questi screening sono fondamentali per non richiudere la scuola, anzi per far sì che i ragazzi possano sempre di più andare in presenza nelle prossime settimane e concludere l'anno scolastico nel miglior modo possibile. Per questo invito la Regione a ritornare sui propri passi e partendo dal modello Pesaro costruire un modello Marche, visto che le Marche hanno tantissimi tamponi a disposizione in magazzino, per poter fare in maniera periodica lo screening nelle scuole superiori di tutte le Marche, perché tutti gli studenti marchisani hanno lo stesso diritto di coloro che vengono a scuola a Pesaro, cioè di andare a scuola nella massima sicurezza possibile. E in più perché abbiamo bisogno di continuare questo lavoro in modo tale che le fotografie che si scattano possano essere periodicamente ripetute proprio per anche avere dei dati statistici sull'andamento del virus. Scriverò oggi ufficialmente al Presidente Acquaroli, all'Assessore alla Sanità, ai direttori dell'Asur, per chiedere di fare loro questo lavoro per tutti gli studenti delle scuole superiori e delle scuole medie. Ci auguriamo che nel giro di una settimana ci venga risposto positivamente, nell'interesse della scuola marchigiana, positivamente. E se così non dovesse essere, noi siamo pronti, con le nostre risorse, con questa squadra straordinaria, a fare un altro giro di tamponi tra la fine di febbraio e i primi di marzo, sicuramente nelle scuole superiori e valuteremo anche la possibilità di farlo nelle scuole medie. Diverse le realtà che hanno partecipato all'organizzazione dello screening. Tra queste c'è anche AIL e il Presidente della sezione pesarese ha definito l'operazione un piccolo miracolo della comunità. È un buon inizio che va ripetuto, va ripetuto in larga scala e speriamo che poi questi positivi calino sempre di più perché vuol dire che il lavoro che è stato fatto è quello giusto e la strada è quella giusta. L'entusiasmo per i numeri raccolti dall'operazione è stato manifestato anche dal Preside del Liceo Scientifico e Presidente Regionale dell'Associazione Nazionale Presidi, Riccardo Rossini. Avere stanato, passatemi questa parola, 16 asintomatici che possono potenzialmente contagiare molte, molte persone è davvero un grande risultato. È quello che chiedevamo noi come Associazione Nazionale Presidi, da tempo, chiediamo le vaccinazioni per il personale scolastico ma chiediamo anche lo screening di massa e soprattutto che si ripeta sistematicamente in questo periodo molto difficile, gennaio-febbraio, ogni 15-20 giorni. Rossini ha poi dichiarato che senza un'attività di controllo periodica e con il verificarsi di numeri importanti all'interno degli istituti, le scuole andrebbero chiuse. L'ultimo caso risalente soltanto a qualche giorno fa riguarda la primaria di Viafermi, in cui si sono registrati alcuni casi di positività tra il personale ATA della struttura. Se necessario bisogna chiudere le scuole, capisco che la fascia d'età è sensibile, stiamo parlando di bambini e quindi anche con difficoltà a tenerli a casa da parte delle famiglie, quindi se non si chiude però si deve andare a tamponare, a verificare e rendere sicure le scuole, isolando i casi, diciamo così, positivi.